Carlo, noi abbiamo, adesso parlo soprattutto con la persona che ci aiuta per le proiezioni, c'è il saluto di una persona che non può essere qui, insomma è un assente giustificato, però aveva piacere di mandarti un saluto, quindi se possiamo proiettarlo siamo molto contenti naturalmente. Ciao Carlo, però sei nella mia vita erbo e ci tenevo a saluto, a salutarti e a salutare tutti i terpesi. Ciao, sei un grande. Perché se chiaramente gioca in una squadra che era nostra, cioè grande competizione, però Bonucci è il signor giocatore, quindi io saluto, lo ringrazio tanto e ricambio con affetto e gli auguro tutto il bene del mondo perché è veramente serio, bravo, lo stimo tanto.